unico se vuoi fare l'introduzione e lasciamo diciamo che eccolo professore buonasera buonasera un coglione di autista che non capisce un cazzo sbaglia le strade non ha le chiavi un morto di sonno però è ma arrivavamo la città metralla non solo trovare un filosofo si chiama gamben che sta del verde della valle bellissima nella tuscia eccomi qua sono arrivato buonasera professore ci senti ci senti benvenuto buonasera sì eccoci qua la sentiamo benissimo sentite la sentiamo la sentiamo la sentiamo la sentiamo allora e mi presento sono andrea andrea sono un maschio e andrea che si rispettano e siamo qua con ivan ed enrico che facciamo da da febbraio tutta la pandemia abbiamo fatta così otto ore al giorno di dirette di interviste alla faccia della tv che che non ci piace si cosa entriamo subito nel fulcro vittorio cosa ne pensi tu della tv cosa ne pensi tu di di internet e dell'intrattenimento inter non so se hai mai visto qualcosa oppure oppure no ma mi hanno detto che siete bravi io sono arrivato in modo inconsapevole perché dopo tanta televisione sette otto dieci anni fa incrociamo delle persone molto giovani che avevano visto delle cose di vent'anni prima mi chiedevo come fosse stato possibile e così ho capito che vedevano attraverso internet e che molte delle cose che avevo fatto erano diventate dei temi comuni di riferimento poi fu sistemativamente aggredito 12 anni fa 13 anni fa da uno che si chiama pietro ricca che oggi è diventato mio amico il quale in area pre grillina veniva negli uffici dove io ero a milano a fare l'assessore e mi provocava raccontando delle cose terribili e perché io all'epoca avevo assunto posizioni molto dure contro i magistrati e soprattutto nella contrapposizione con di pietro e quindi lui difendendo i magistrati mi attaccava mi rendevo conto che quegli incontri e quelle provocazioni non solo perché c'era una telecamera che riprendeva qualcosa che andava da qualche parte che appunto era internet e io non ne disponevo non la usavo però la sua finalità era quella e quindi in questi due modi attraverso le aggressioni e l'idea che ci fosse poi un mondo che girava intorno a questi confronti violenti che venivano inscenati nella provocazione per strada e poi quando venivo fermato e mi raccontavano cose fatte da costanzo in televisione alla fine degli anni 80 e primi anni 90 e non ho passati molti anni ormai e mi chiedevo come dei ragazzi di 15 16 anni potessero conoscere quelle cose e e quindi poi da lì tutto quello che io ho fatto è stato riversato sui social come si dice oggi i miei assistenti hanno lavorato fino uno a tel aviv si chiama pietroni e l'altro nino ippolito in sicilia fino a portare oltre 2 milioni i miei follower su facebook e poi anche su instagram lavorare intensamente tutto questo però senza che io abbia mai aperto facebook io sono in contatto con voi quello che faccio poi viene trasmesso ma io lo carico lo faccio caricare ma non guardo le cose che mi arrivano di risposta perché altrimenti animoso come sei mi incazzerei mi andrei a cagare quelli che non sono d'accordo e quindi ho una posizione dentro questo mondo che è passiva non attiva o è attiva nel senso che io parlo ma non prendo poi atto di come gli altri si misurano con me e quindi fino agli ultimi giorni gli ultimi tre mesi in cui sono stato assediato tutti i giorni non per otto ore ma per quattro cinque ore di collegamenti skype di una serie di rompicoglioni come voi che volevano parlare stando a distanza e animando dei gruppi che ognuno diceva di avere 100 mila 40 mila 200 mila 500 mila comunque quali che fossero erano dei modi per prendermi alcuni pensieri e trasmetterli dei loro circuiti quindi questa nuova iconosfera si è molto potenziata creando come nel caso vostro che mi dicono però essere particolarmente significativo una serie di canali paratelevisivi che passano attraverso questo mezzo ma diciamo anche la lettura e attacca una roba no cosa è cercato porca puttana la lettura è corretta diciamo sì pronto pronto professore mi sente vittorio prima caricatore vittorio vittorio iva per ora ci ha dato dei rompicoglioni è andata bene ha monopolizzato per dieci minuti a enrico ok ci siamo vai 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 ma che vado ok ci siamo che devo provare no no sono staccato questo non è peccato la sua parte professore ci sente professore sindaco ci sente o onorevole c'è un piccolo una piccola telefonata non va all'audio dico abbiamo tolto enrico cos'è che ci volevi accennare quando sentirà la faccio la domanda se no che se fa in frattempo vogliamo continuare a parlare volevo creare volevo creare un io ho mutato è no ma stavo parlando con caldo cambia telefonato sindaco ragazzi qui siamo all'inizio già sta succedendo in frattempo di tutto cioè vogliamo appena ritorno è musica epica ma tutte le volte sì sì e poi prendi tu le redini che hai delle due domande ci sentite vittorio ok ok ci siamo dicevo sicuramente è una lettura corretta ed è anche interessante sapere che diciamo tu lasci queste cose ma non vai a vedere i feedback dalla dal nostro punto di vista quello che è successo nel corso degli ultimi decenni è un po' una tu hai citato il maurizio costanzo io come tanti abbiamo visto spezzoni e la mia impressione che quelle trasmissioni fossero delle trasmissioni rispetto ad oggi coraggiose cioè dove si parlava di roba interessante e si scambiavano opinioni serie senza senza stronzate ok mentre invece se dobbiamo comparare diciamo se nel io ho letto un po wikipedia tua se nel 1989 tu davide la stronza la poetessa nel maurizio costanzo show adesso ti trovi a dover discutere con la d'urso e questa noi sembra un po una decadenza della tv quindi il desiderio di crearci delle tv nostre è d'accordo con questa lettura no mi sembra una lettura del cazzo nel senso che la d'urso è un epifenomeno particolarmente popolare e è un facile bersaglio io in realtà potrei non andarci costanzo effettivamente aveva una dimensione non alta ma nobilmente popolare ed era estremamente diffuso in tutti gli strati perché gli ospiti erano sia personaggi della cultura sia politici sia persone comuni sia nuove speranze quindi diciamo che la misura di costanzo costanzo era come quello di un grande impresario che scopre nuovi talenti e in parte poi li fa conoscere io mi sarei affermato comunque ma ho contribuito a potenziare la sua stessa vantaggio per me quindi una maniera in grado di dominarmi come ha fatto con molti avendo su di loro attre di costanzo una delle quali vedeva appunto una preside che leggeva poesie e per puro caso io stimolato da vianello dicevo che erano brutte poesie e poi lei mi diceva lei è un asilo se voleva un cavallo lei è un asilo e lei è una trozza poi una famosa fotografa letizia battaglia che l'assessore alla vivibilità di palermo a dimostrazione che da palermo era indimente perché non c'era piuttosto evidenti uno stesso l'altro la vivibilità e che io in visi nell'angolo citando delle panchine di pisossi in un quartiere marocco scusami ci sentiamo molto male ma ci sono dei problemi dei problemi audio questo è mi scuso sentiamo robotico ma siamo robotico non così non la senti vittorio mi sono malissimo qualcosa che sta facendo interferenza professore non la sentiamo più vabbè non si sente un cazzo da voi dovete migliorare richiamano provate ad uscire sia riuscire a rientrare proviamo sì solo break pubblicitario allora a parte i problemi di audio l'unica cosa è che purtroppo non gli è piaciuta la mia lettura Andrea no no vabbè ma la questione è un'altra è che vittorio è un è una persona con cui tutti parlano di argomenti nessuno parla magari o poco si parla del vittorio in sé però adesso vi voglio chiedere una cosa sperando che funzioni se no perché poi chiediamo com'è andata in Albania va bene sì eccoci qua ci sente professore sì quindi diciamo era un altro mondo ma non è che al posto di quello sia arrivato l'adurso c'è una certa varietà c'è la linea della sette con una costante sequenza di trasmissioni simili legate all'attualità da Murta Berlino da Tagadà fino alle buone e importanti televisioni della Gruber e di Formigli o dello stesso Giletti che abbia in qualche modo preso il posto di Costazzo l'adurso invece è un contenitore popolare addirittura diversa in cui c'è il teatro del pettegolezzo è un mondo che viene guardato con molto dispetto dalle persone che non si vogliono far prendere in giro da questo facile sentimentalismo però ha una sua logica e soprattutto appartiene alla sfera dell'intrattenimento che è quella che paga di più perché il problema di fondo è che la televisione per me è stata per 30 anni una fonte di sostentamento importante ho portato quadri bellissimi, ho trasformato il denaro in spirito attraverso questa opportunità ho pagato anche avvocati e giudici con le querele che ho avuto però nel complesso oggi il rapimento come accade con i collegamenti Skype delle idee delle persone non porta pegno e invece l'urso ha la dignità di pagare le persone che in vita per cui questa è la caratteristica potenzialmente non vengo a decidere, non andrei da lei magari andrei in luoghi, sono stato da Diaco dove il dialogo più tranquillo nessun problema di contraposizioni ha reso la mia persimegnanza particolarmente intensa che è quella che uno si eserrebbe da un'altra parte invece c'è la volontà di contraposizione, delle sfere però tutto questo fa parte di un gioco che per gli ascolti comporta anche che ci siano dei cachet che rendono attraente quando meno qualcuno che qua in televisione o non ci andava all'epoca dicevo che o non lo invitavo o non ci andava per quello e in ogni caso se avessero invitato lo avrebbero pagato per cui ci sono questi elementi che non si possono misurare soltanto nei termini di un'epoca migliore rispetto a un'epoca di decadenza sono le azioni del campo in cui la televisione consente alcune testimonianze più legate all'attualità e altre invece che non sono sicuramente le più divertenti per me legate ai particolari bambini, alla famiglia, alle figlie e a tutto quello oppure anche semplicemente situazioni in cui io sono stato particolarmente polemico e quindi diventano ragione perché lei mi passa a diventare spettacolo ma non farei un giudizio così tracciato sulla D'Urso perché la sua televisione non ha lo stesso tono così vario e teatrale che aveva Costanzo soltanto era proprio un impresario teatrale che scopriva talenti Sì, sfortunato, guardi professore, noi siamo qua, io sono qua da, diciamo dal coronavirus è un po' esploso tutto il mondo del web e ora noi siamo ancora in una fase un po' troppo embrionale cioè ci stiamo un po' assestando e secondo me in positivo in positivo, cioè stiamo crescendo in positivo anche se siamo in una fase molto embrionale ad esempio lei a me ha fatto molto piacere che è venuto qua ma noi non abbiamo una potenza alle spalle tale da poterci garantire il pagamento degli ospiti o anche il sostentamento di un format televisivo lei guardi qua dietro, io ho la mia stanza in disordine, non posso pensare di affittare uno show e secondo me con il coronavirus adesso, anche che la tv sta andando in perdita anche perché le pubblicità non pagano più come una volta o comunque milioni di euro per sostenere un format sono troppi e secondo me dopo questa crisi ci sarà un punto di congiunzione tra il web e la televisione che non c'è mai stato prima che noi stiamo pensando di fare, di avvicinarci l'unica cosa è che noi siamo ancora inesperti e senza mezzi per cui noi andiamo nel buio, brancolando il buio quindi a volte sperimentiamo molto più della tv il problema è che non siamo mai riconosciuti siamo gli unici che stiamo provando a uscire un po' dalla sfera che gli youtuber sono tutti incoglioniti e per noi comunque è difficile ma ci stiamo provando lei è un personaggio storico e cult della cultura pop italiana e per noi è un onore che lei sia qui però devi capire anche che io non sono Barbara Duzzo che ho tutto, ho la truppo, ho le cose no no ma io mi hanno parlato bene di voi stavo semplicemente dicendo professore scusi si può mettere le cuffie se no non riusciamo a sentirla la dovete rifare, avete questi mezzi di merda che non si sente un cazzo eh ma non è colpa nostra non è colpa, professore le cuffie, le cuffie si metta le cuffiette come prima questa mania di questo scalpo, prendete le telecamere ma non abbiamo i mezzi come diceva non possiamo permettercele lavoriamo da casa, non abbiamo studi televisivi, professore non si sente un cazzo, porca puttana siete lo scalpo peggiore del mondo non ho mai fatto un collegamento del cazzo come questo ma non è colpa nostra ma non è colpa nostra, professore allora rifateli, chiamateli, c'è questo problema in capa è purtroppo il problema tecnico non è colpa nostra io metterei un mediatore metterei un mediatore se torna intanto eccoci un altro professore professore ciao Ale buonasera a tutti ciao Enk, ciao Omi, ciao Ivan ciao Alessandro allora c'è una situazione un po' tesa con Sgarbi perché se l'è presa che frigge ma non capisce che è colpa della sua connessione non nostra ma non è mica una novità che con Sgarbi ci siano situazioni tese quindi assolutamente anzi è quanto tutti si aspettano e io ti ho fatto entrare perché forse abbiamo bisogno di per la prima volta siamo un po' in difficoltà e magari tu ci puoi come dire oliare un po' la situazione so che sei che tra di voi è sempre andato tutto bene guarda innanzitutto fra di noi è andato tutto bene e fra me e i vostri followers i vostri modificati questa è la cosa fondamentale la grande scoperta positiva del lockdown in mezzo a tante cose negative poi con Vittorio che spero che mi ascolti e che i suoi collaboratori sistemino un po' la sua postazione c'è da sempre un meraviglioso rapporto di stima di attenzione di studio di competizione di amore e odio tutti lo sanno quindi adesso vediamo se riusciamo a parlarci ma intanto mi fa piacere sapere che non lo pagate perché tutti mi avevano detto che essendo io sempre vostro ospite gratuito lui era stato pagato ed era una situazione un po' bilanciata da quello che ho capito non è stato pagato no no c'è chi mi intasco tutto lì oh eccoci eccolo va bene va bene te lo meriti va bene no più che altro non abbiamo i mezzi per affrontare un discorso un po' più di professore ci sente? ma io non ti ho mai chiesto nulla però insomma lui aveva fatto capire di essere stato pagato no 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 professore ci sente? si vedono solo le sue mani perché non abbia dei consulenti ha un assistente che la sta aiutando ma dove sta? è a casa sua credo a casa sua ci sono un po' cose lo sai come? lo sta aiutando molto ma non è colpa nostra è colpa del consulente anche io sono a casa mia ma funziona tutto benissimo scusate voi siete voi siete testimoni che vi siete collegati con me da Positano da Roma da Milano ed è sempre funzionato tutto benissimo io tra l'altro vado avanti con uno smartphone per cui che diavolo c'ha Vittorio che non funziona che gli hanno dato chi lo assiste chi non lo assiste posso trovare le gambe da vetralla sarà Ferrara professore ci sente ecco lo ciao Vittorio mi sa che ci sono degli errori tecnici non imputabili a noi pronto ragazzi Alessandro tu mi senti a me sì certo Vittorio tu ci senti scusami Omi quando mai quando mai io e te io e voi non ci siamo visti e sentiti è Vittorio che evidentemente non è non è in linea con le nuove tecnologie io e te e voi ci siamo sempre sentiti capiti e visti Vittorio dimmi caro volevo dirti se devi farvi vedere quel quadro ecco quel quadro è molto vicino a Goghen però parliamo di Goghen non sta parlando con voi è tipico pronti pronti non sta parlando con voi è tipico di Vittorio di parlare con altri mentre parla con degli interlocutori principali però potremmo fare per la prima volta l'intervista dove le domande sono costruite su quello che dice l'intervistato far finta che risponda non l'ho capito lui era al telefono con una persona parlando di Goghen e noi diciamo ci dica pure di Goghen e sembra che lo stiamo intervistando capito Goghen? così diceva non so ma anche si è trivirato il fatto è quello che non vorrei passasse che sia colpa nostra dei mezzi audio perché tutti quanti praticamente sul web utilizzano questo sito o siti simili però il problema è che se internet non c'è da una parte o se non c'è male il mezzo non è colpa nostra però mi dispiace che sia Omi 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 io sono testimonial del fatto che dal primo marzo sono collegato con te e con voi in maniera perfetta ovunque io mi trovassi quindi cosa che non va a casa scarbi professore e ora vediamo la pelata no sì ma lo devo vedere dobbiamo vederlo a Milano io sono a Milano penso ma sta facendo i beati in cavoli sta citando un mio amico carissimo sta citando un mio amico carissimo che è appena morto il filosofo Giulio Giorello che la pensava diametralmente apposto a lui è difficile che sia grande laico grande anticredicale grande ateo eh tra l'altro Vittorio ieri in televisione ha pianto per questa persona pronto e avrà pianto ma lui è sempre dalla parte della chiesa pronto Vittorio niente lo dicevo che mi hanno parlato bene di voi che tra l'altro io ho parlato con una Cevillano parente che mi aveva chiesto di fare un cammeo poi qualcuno di voi mi ha chiamato per dire che invece eravate ben intenzionati anche a pagare cachet quindi state proprio sulla strada giusta cioè creare una rete previsiva che abbia una sua dignità poi che sia una letta che passa attraverso questi strumenti così precari può anche essere ma quindi sono l'unico che non viene mai pagato da voi beh no forse mai pagato nessuno mi dissocio non abbiamo mai pagato Vittorio dice che l'avete pagato no no ho detto che ho sentito che parlavano anche di Danaro quindi mi sembrano ben indirizzati perché se vogliono diventare importanti devono avere ambizioni e capacità anche tecniche perché qua vedi che siamo attaccati a un telefonino per dire delle cose così Vittorio io quando ti ho chiamato stavi partendo per l'Albania ma com'è andata perché abbiamo letto delle notizie non proprio belle ecco no luogo meraviglioso questo è delle cose straordinarie ma ma sei andato per una vacanza per studiare no sono andato come amico del presidente del primo ministro e ho visto alcune cose quadri dei depositi dei musei città luoghi che in parte conoscevo in parte e poi ho visto anche le nuove stazioni balneari una delle quali aveva queste alte onde che io ho affrontato ma ho voluto raccontare quella storia che era stata registrata dalle televisioni appunto del governo quindi potevo anche far finta di nulla perché mi era sembrato bello che nel pericolo sia pure non mortale che ho corso ci fosse mia figlia che mi soccorreva e mi stava vicina e veniva verso di me per cui mi è sembrata una storia degli all'essere raccontata ma non c'è stato nulla di drammatico anzi è stato un momento formidabile quello dei tanti luoghi visti con il sindaco di Valone dei siti archeologici come Birnis poi è nata una polemica se quel luogo dove sono stato dove per me aveva una cultura greca fosse l'illiria ovvero una terra albanese di cultura albanese o fosse di cultura greca quindi un'ulteriore polemica a distanza ho dovuto fare con la televisione albanese sempre attraverso questi strumenti che voi usate adesso però il punto di partenza era semplicemente che prima di farvi sentire ho sentito la voce di Cecchi Paone che voi avete sentito ciao Vittorio buonasera una strana facile polemizzando con la D'Urso la D'Urso è una parte di televisione in un universo pieno di tante cose in cui lei ha le sue ragioni molto precise io poi vi ho detto le mie ragioni ma per il resto se voi facciate qualcosa certo strumenti come questo sono precari ma potreste anche avere argomenti o capacità di mettere in collegamento persone degne di essere ascoltate e quindi avreste raggiunto un risultato quindi la mia era solo una constatazione rispetto al vostro giudizio così negativo della D'Urso perché all'altra parte anche Cecchi Paone che è quasi mio coetaneo ha vissuto sia l'epoca di Costanzo che quella della D'Urso ma non sono conseguenze o decadenza di un'epoca più alta sono fasi di una televisione che trovo io per esempio trovo straordinario per come è costruito il mondo di uomini e donne dove c'è questa dimensione così mortificante umiliante per certi versi ma anche di strati di società di diverse generazioni che si preciano in amore con i loro diventi è una dimensione forbidabile dal punto di vista della comunicazione e poi di tutte sono diversi e rappresenta i sentimenti importanti Vittorio non si avvicini troppo al microfono se no frigge vada un po' indietro ma non è un problema non è colpa nostra però Vittorio ma a noi funziona tutti bene Vittorio è il suo strumento che non funziona sempre funzionando fare il strumento tutte le volte che frigge voi siete più gravi del mondo ma friggete già l'incapace quella che lavora con me voi siete ancora più incapaci quindi avete messo insieme ma dove sta Vittorio adesso sta a Ferrara bio blu bio blu con cui abbiamo fatto i regolamenti perfetta red ronni perfetto voi fate cagare fermatura ma non Vittorio non è colpa nostra Vittorio non è colpa nostra non sarà colpa nostra però Vittorio dove sei adesso sei a casa sono appena rientrato da Sutri stiamo montando la vostra incontri a Sutri da Giotto a Pasolini che vorrei venire a vedere che apre il 25 ma come mai Vittorio dove sei in questo momento sono rientrato a casa sei a Ferrara quindi no a casa da Roma a Roma a Roma quindi a Corso Vittorio va bene casa bellissima non proprio adesso sto a largo nel teatro a Roma e verrai un giorno qui a vedere c'è la veduta bellissima della cupola di Santimo alla Sapienza sulla terrazza e poi c'è anche il tuo amico Peter Weider che ti ricorda è venuto a provarmi dieci minuti fa ti prego di abbracciarlo forte ti prego di abbracciarlo forte che è tanto tempo che non lo vedo per cui veramente ti prego di portargli il mio amore si si ha sempre parlato meglio di te come di persona e viceversa a parte tu hai avuto viceversa perché tu sei stato anche sposato con una donna che lui conosceva quindi hai avuto una famiglia normale regolare intendo si perché tu sai che Peter aveva un bellissimo antiquariato a Madrid e Cristina la mia ex moglie che tu hai conosciuto è di Madrid quindi si conoscevano per motivi anche di diciamo localizzazione spagnola ecco ecco Vittorio scusami io ho una domanda ti volevo chiedere come fai a conciliare diciamo le varie fasi del tuo personaggio cioè lo sgarbi parlamentare lo sgarbi sindaco e lo sgarbi che va in televisione dalla D'Urso come fai a far ci vorrei andare molto di più allora la mia attività sono tutto a scrivere scrivo tutte le notti scrivo libri anche la tua parte artista cento quadri colleziono quadri compro quadri oggi ne ho comprati due qualunque cosa quindi poi faccio parlamentare sindaco poi faccio le mostre d'arte ma riesci a fare tutto bene facendo così devi avere il danaro per comprare più cose di quelle che posso comprarmi quindi vado molto poco purtroppo vado invece aveva lo stipendio da parlamentare già bello alto lo stipendio da parlamentare è già bello alto la previsione mi ha consentito come appunti di guadagnare tutto il danaro pensa che Bonolis che io guardo con odio ha guadagnato in 4 anni 80 milioni di euro vorrei dire che non lo guardo con i media ecco provate voi per fare le previsioni che fa che non guardo neppure quindi alla D'Urso sono compensi un po' più significativi che altrove ma ci sono troppo poco poi vado invece tutte le strutture nella previsione che io ho fondato che guarda la Repubblica perché facevamo virus allora uno cacciati porro e dio io lo portai con i media quindi quella è la mia presenza stabile che però ovviamente ha un compenso molto inferiore a quello dello spazio diciamo del gossip che invece come intrattenimento consente per cui non parlo ma è purtroppo molto meno frequentato di quanto vorrei Vittorio non per colpa nostra ma per colpa di mezzi che stai usando si sente malissimo frigge 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 non vorrei dire che non è colpa nostra è colpa nostra non è capitato qua ma non ho poi rincognarito la mia assistenza ma le abbiamo fatte 600 ho fatto un giorno questa volta la volta che ero giù bravo i tuoi bravi di tutti ti avevano detto per condire questa assistenza ma non è colpa nostra che l'audio frigge non è colpa nostra perché Alessandro è andato via provate a riutilizzare le cuffie se riuscite magari assistenti perché secondo me il suo microfono a un certo punto sbiella ma non è colpa nostra la cosa che ma cosa vuole la troupe che va a casa manco ci abbiamo i soldi per la nostra di casa che cazzo scusami Hank Hank però girano voci su quanto guadagnate voi streamers che fanno pensare a Vittorio che voi abbiate dei mezzi stratosferici ma no quelli li spendiamo tutti in alcol no no non è vero la cosa è questa Alessandro ora come ora magari secondo me anche un problema sfortunatamente secondo me era in un posto che le case antiche hanno i muri giganteschi era senza wifi o wifi era lontano e friggeva non c'è mai successo neanche a noi c'è successo solo a te Alessandro la prima volta che eri sempre fermo un paragone ma per il resto io con voi mi sono sempre trovato benissimo mi sono visto e sentito in maniera perfetta ci sono delle bellissime tette adesso e ora Vittorio in un'altra postazione assistente provi le cuffie per favore ecco non possiamo abbiamo solo una uscita usb è in carica perché ci avete detto che dura un'ora c'è un telefono il mio telefono in un'ora non riesce ok quindi è perché un iphone ci hanno tolto il jack va bene ok non potevate fare delle prove prima allora scusate adesso vado io cioè allora il discorso non è della prova perché per due secondi può funzionare poi ovviamente la linea può venire e andare però io non sono Gesù Cristo se la linea se ne va io non posso andare posso fare tutto il possibile mi dispiace ma quando faccio tutto il possibile poi dopo adesso si sente benissimo rimanete così va bene quando parla lei quando parla lei si sente tutto quando parla Vittorio non si capisce niente è vero bravo allora comunque Vittorio non so se tu lo conosci ma mio zio è Pierluigi De Lutti non so se mi senti Vittorio e ti sentiamo e ti volevo chiedere cosa ne pensi di lui cioè ti piace come artista rischio una rispostaccia eh che bella ragazzi il format delle cose il format del ragazzi Tommy io spero che sia vero che non l'abbiate pagato perché è una tragedia no no non l'abbiamo pagato 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 nessuno no io io mai l'abbiamo pagato però vi do una qualità audio video e di presenza straordinaria qui è un disastro ma secondo me guarda non è neanche colpa di Vittorio ma no è una cosa ovviamente cosa succede che se se chi ti invita non ti offre gli strumenti non puoi criticare gli strumenti cioè è una videochiamata è una videochiamata no che il ragionamento del cazzo è scusate vabbè e lì sarà la connessione c'è il problema con chi c'erai io no il ragionamento del cazzo di chi è ce l'ho con Sgarbi che c'è ho capito che lui deve criticare però scusami se tu non capisci quello che stai facendo non criticare in una parte tu dici io non sono disposto a venire in un posto dove non sento e va bene così ma non puoi accusare chi è lì e tu non capisci cosa sta facendo e non capisci che il mezzo che stai utilizzando è un mezzo che offre una terza parte e che i problemi si stanno verificando solo con lui in una storia di tre mesi non criticare puoi criticare ma tu non eri quello che volevi intervistare l'Avenier l'altra sera e beh l'Avenier si avrà avuto un telefono migliore che c'entra e che ne sai ho capito sì è colpa comunque che mi sentisse allora Alessandro non so se anche te quando hai fatto l'intervista magari qualche truppa è venuta a casa tua però non è che possiamo mandare le truppe allora scusate ragazzi mi chiedono di diminuire diciamo i toni per non farlo inalberare ecco ok ok ma secondo me lo sai cosa possiamo fare? secondo me mi dicono che il problema era ma no aspetta Ivan calma chi lo chiede a chi perché io faccio e dico quello che cavolo mi pare con chi mi pare non ho mai avuto problemi di lottare contro un papa che voleva massacrare la libertà in Italia delle persone GLBT e degli scienziati figo se mi metto paura di qualcuno che ti sta dicendo a te di chi stai parlando? di nessuno hanno un problema di connessione Alessandro vabbè allora parla con quelli che sono incapaci di fare una connessione io mi sono sempre connesso con voi in qualunque momento da qualunque casa mia vecchia antica futura o presente e da sempre tutto benissimo quindi il problema non è mio il problema è loro e quindi non voglio sapere niente che non mi riguardi ma lei ha perfettamente ragione Alessandro ma secondo me cioè secondo me il problema persiste perché io sono abituato a fare queste cose e secondo me possiamo anche cioè è interessante però non vorrevo focalizzare la cosa su l'audio che frigge ma invece il tema è audio che frigge due punti l'opinione di Sgarbi omi 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 però scusami tu sai che io vengo da voi perché vi considero persone serie e interlocutori seri e ormai vi considero anche degli amici allora questa è la prova di quello che io ho sempre detto e mi sono permesso di anche di criticarvi non ci avete mai aiutato a me e ai pochissimi che da dieci anni chiediamo all'Italia di avere una vera connessione banda larga banda veloce banda potente connessione all'altezza dei paesi civili questo è la prova che noi siamo un paese del terzo mondo dal punto di vista digitale ed è una colpa della classe dirigente politica industriale finanziaria bancaria ed economica e questo è una cosa che voi dovreste un attimo pensare perché non ci avete aiutato io volevo tirarvi fuori dai bassi fondi il basso fondo è collegarsi con Sgarbi e non sentirlo è un basso fondo ed è un limite che vi impongono per non diventare importanti perché se voi chiamate una persona come Sgarbi con cui non riuscite a parlare siete condannati a una situazione marginale quindi ci vuole una rivoluzione digitale bisogna pretenderla io la pretendo da dieci anni ma voi non ci avete mai aiutato aiutateci perché dipende del vostro futuro io il mio passato ce l'ho già e ho una casa costruita grazie ai dinosauri come sai il nostro amico bannato ma voi se volete uscire dai basement cioè dai bassi fondi dovete pretendere delle linee per cui chiamate Sgarbi e Sgarbi si capisce Sgarbi non si capisce perché le linee in Italia fanno schifo giusto perché il mondo politico bancario economico tecnologico infrastrutturale se ne è fregato dei giovani che nel resto del mondo governano perché hanno delle connessioni a banda larga e a banda veloce giusto ma Alessandro la cosa è che io cinque mesi fa ma già frigge senza Vittorio l'auto dopo un certo periodo frigge non sono neanche così sicuro che c'è la connessione perché sembra che può essere la connessione ma non è che c'è qualcosa che fai non lo so è strano può essere il ritorno delle casse secondo me se si abbassano un po' con delle cuffie potrebbe no perché le casse lo farebbe fin da subito Alessandro il tuo discorso è vero però io come pensavo magari un anno fa che dovevo capire come fare a dire ok il problema lo sai cosa io non ho un paracadute è il filo del caricatore dicono in chat ma quello che penso